Siamo qui con Martina Linoldo che sta facendo un'intervista, oggi giorno è la mia partenza dal capo d'Orlando, sono molto triste, anche molto preoccupato perché devo fare un miliardo di ore di macchina, grazie di tutto, grazie a tutti, è stato bellissimo, ci vediamo almeno in vacanza, forse l'anno prossimo.